L'Ordine degli Ingegneri di Teramo ha voluto fare il punto sulla ricostruzione relativa ai danni del sisma 2016 e delle difficoltà che i professionisti stanno incontrando nello svolgimento delle attività di propria pertinenza. Va ricordato che l'area della ricostruzione interessa 5 comuni dell'entroterra della provincia di Teramo, appartenenti al cratere ed altri comuni al di fuori del cratere, in cui si riscontrano moltissimi edifici con inagibita lieve o grave. A preoccupare in particolare la data del 15 ottobre e termine ultimo per la presentazione delle pratiche che rientrano nel CAS, contributo di autonoma sistemazione, e su cui l'Ordine Teramano chiede una proroga. Criticità che non sempre dovute a dei ritardi anche che si stanno verificando nell'approvazione dei progetti legati ad alcuni aspetti, tra i più importanti sono i livelli operativi. I livelli operativi che in sostanza hanno tenuto bloccati un po' i progetti appunto da circa un anno che se ne parla. Noi abbiamo chiesto dei chiarimenti che sono arrivati, alcuni sono stati anche un po' in parte accolti. Solo ieri in sostanza è arrivata una prima risposta dove appunto si dimostrava così un'apertura verso queste criticità. Solo che c'è un problema delle scadenze, che è quello del 15 ottobre, dove praticamente quelli che sono in CAS, cioè che hanno l'autonoma sistemazione, per cui chi non presenta i progetti entro il 15 ottobre rischia di perdere questa agevolazione. Di conseguenza noi riteniamo che oramai i tempi sono strettissimi, non c'è tempo per fare le integrazioni e presentare i progetti entro quella data, per cui si chiede una proroga dei termini, minimo fino al 31 marzo 2023. Oltre a questo l'Ordine degli Ingegneri di Teramo chiede tempistiche più rapide di approvazione ed erogazione dei SAL, stato di avanzamento lavori, senza prevedere gravi significativi nei confronti dei professionisti. Chiediamo anche un po' un'accelerazione sul rilascio dei SAL e quindi alcuni altri aspetti, per esempio quelli dei danni fuori cratere, per intenderci che è stato emanato un decreto legge del 20-22 settembre, per cui anche lì la scadenza del 15 ottobre sarà difficile da rispettare.